Ciao a tutti, lo sapete che una volta Wayne Gardner era deciso a staccare un dito a Paolone Beltramo e quasi ci riuscì? Di solito un giornalista non parla a dei colleghi, si sa, è una cosa un po' corporativa, ma questa volta penso di poter fare un'eccezione perché con Paolo ci si conosce da una vita, eravamo insieme a Mediaset, oggi lui a Sky, ma soprattutto quando nessuno dei due aveva ancora la barba, lui era un mio lupetto nei Boy Scout, io ero uno dei suoi capi, ero Ka, il serpente, nel libro della giungla e un po' serpente sono rimasto e poi anche questa è storia, sebbene tragiconica, dunque eravamo a Brno, Gran Premio di Cecoslovacchia, penultima prova nel campionato 1988. L'australiano della Honda, che era il campione in carica, vinse la gara ma il suo rivale diretto Eddie Lawson riuscì col secondo posto a conquistare aritmeticamente il titolo di campione del mondo. In quell'anno oltre alla Rai c'era anche Tele Capodistria, qualcuno forse se la ricorderà, io ero il telecronista e Paolo, era il famoso, lì nasceva, Beltramo dai Box. Ebbene, Beltramo a fine gara era sotto il podio per le solite interviste, come sempre, e volendo consolare Wayne Gardner, che gli stava anche simpatico, quella volta gli chiese, Lawson è il campione del mondo, ma chi è il più forte? Naturalmente, nelle intenzioni di Beltramo, quello era un assist, ma Gardner non capì e non l'ha prese bene e a muso duro gli rispose, secondo te? Il povero Beltramo provò a replicare educatamente, le domande le faccio io, borbottava, sono io il giornalista, ma quell'altro sempre più incaronito lo guardava in Cagnesco e alla fine Paolo dovette capitolare, con un filo di voce disse, il più forte sei tu. In serata tutti un po' brilli durante i festeggiamenti in onore di Eddie Lawson, non so come ne perché si finì per organizzare quel gioco stupido della sedia, quello che si faceva alle feste dei ragazzini, che a un certo punto la musica finisce di colpo, ci si precipita verso la sedia e ce n'è sempre una in meno, sapete com'è? Il fatto è che sarà per un caso, a un certo punto Gardner e Paolone si dovessero litigare, l'ultima sedia rimasta e si avventarono su quella che era di legno del tipo pieghevole e nella foga, entrambi belli robusti e decisi a non mollare, la sedia si chiuse malauguratamente proprio sulla mano destra di Beltramo. A momenti perso un dito, povero Paolone. E quel bastardo di Gardner non gli chiese neanche scusa, forse lo aveva considerato un banale incidente di gara o forse era ancora incavolato per quella domanda secondo lui irrispettosa. Ciao! Ciao!